Ci sono anche tra lecchesi un 54enne residente in città, un 64enne di Perledo e un 42enne di Ballabio coinvolti nell'indagine per frode condotta dalla Guardia di Finanza di Como. Al centro una società di Dongo, comune dell'Alto Lario Comasco, operante nel commercio di prodotti petroliferi. Un giro di fatture false riguardanti i materiali impiegati in edilizia, nel quale sono stati coinvolti anche una società di Lecco, attiva nel settore, una di Trezzano sul Naviglio e una di Lugano. Il meccanismo messo in atto avrebbe consentito la detrazione illecita dell'IVA nel contesto di acquisti fittizi di cemento e altri materiali attraverso società cartiere inesistenti. È una società svizzera compiacente. Le condotte contestate sono state condensate in 32 capi di accusa per fatti compiuti fra il 2016 e il 2021. I finanzieri hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 5 persone fisiche e 4 giuridiche per un valore che supera il milione di euro. Fra questi, 3 immobili di un valore di 200 mila euro e 4 società di disponibilità liquide presenti sui conti correnti per oltre 380 mila euro. 8 gli indagati con l'accusa di false fatturazione, insieme ai 3 lecchesi, 2 valtelinesi, una donna di 47 anni residente a Dubino, un 61enne residente a Cosio, un 67enne milanese, due comaschi, un 57enne di Dongo e un 60enne di Monguzzo. Grazie. Grazie. Grazie.